Benvenuti in questo nuovo video di Happy Wheels, si torna a giocare a questo fantastico gioco e quest'oggi partiamo dai dropper dove cadi, devi cadere perfettamente schivando tutte le cose In realtà ti spiace che da una parte e dall'altra mori malamente, ti spiace tutto quello che succederà Impazziremo come sempre, ma vedremo di migliorare, continuiamo a fare livelli sempre più complessi e a fare cose veramente incredibili Partiamo dalle spike fall che dovrebbero essere banalmente dei dropper e direi di partire da quella di Raivo972 All'inizio avevo letto il raviolo, però non è un raviolo Play, allora, non mi ricordo più i tasti Fere, ci sono eh, non mi ricordo i tasti però Si vede che non te li ricordi, ma non l'abbiamo già fatta questa No, no, sono tutte simili, capito? No, ok Non iniziare a fare il meme di GTA Però mi sembrava simile a una che abbiamo fatto, quella del dropper dove devi andare dritto Vedi che è molto complicato questo, è molto di precisione, capito? Mamma mia che brutta caduta Devi proprio pensare Guarda Ok Sembrava giusto Ma come ci passi? Non lo so Non ci stai? No, no, ci stai Devi proprio È proprio una cosa di Un po' di più, Stef, un po' più grinta in quel caso Eh, lo so, però poi se esagero Tipo così è troppo, capito? Eh, vabbè Un po' meno grinta, allora Eh, eh Qualcuno lo completa pure Guarda Fatto Quando un po' meno te lo aspetti Quando stai per buttare, anzi, gettare la spugna Prossimo Guarda Ormai sono un professionista Ma questo sarà diverso Noob Ok Ok Sì, io l'accetto Cioè, però è un buon livello Ma Possiamo fare ancora di meglio Ok È fatto Dai, era fatto So close Ma no, era fatto Ah, c'è più corpo Era fatto C'è più corpo che l'ha finito Esatto, quindi è il winner No, è perché la testa è quella che conta Ah Perché questo è molto Ad andare lento Vedi, stiamo Stiamo peggiorando, signori Più andiamo avanti Più peggioriamo Perché siamo troppo veloci Guarda che In realtà Era un ottimo tentativo questo Perché anche se non sembrava Staff, non è che se ti muovi tu Il personaggio si muove Non hai prove scientifiche A riguardo, Fere Adesso, mia cara Fere Passeremo a un'altra tipologia di mappe Che non mi ricordo come si chiama Penso Esatto E ti dice non puoi Quindi non puoi fare sto salto Non penso Se deve stare in questo modo Come facciamo? Non lo so Dice che non possiamo Quindi evidentemente non possiamo Aspetta Sta bene, sta bene, te lo giuro Aspetta, aspetta, aspetta No, sta bene, sta bene Fere, te lo garantisco C'è ancora, eh È finita Allora Ma come facciamo se quelle cose sparano? No No Questo è brutto Vabbè, ti sei incastrato con l'arpione Esatto Doloroso Allora È un buon tentativo È stato un buon tentativo Snapper Bravo Sto per piangere Sto per piangere Bellissimo Bellissimo Allora Allora Prossimo Allora You cannot win, man No Vedi, a me Mi devono far triggerare Io prendo Non era questo No, Steph Troppo i bambini dietro Ha ragione Non si può vincere Non distruggiamo le famiglie Dai Non c'è più la famiglia Le metti uno votato malissimissimo Tipo quello Questo? No, quello più sotto Guarda Questo? Esatto C'è che proprio Ma anche quello prima Guarda Zero stelle No, no Ma quale è stata la madre Che ha logato Su 753 persone Voglio vedere Cos'è successo Ok Non ho capito Ok Kill people Dato che siamo per famiglie Buongiorno Bello questo È come la battle flip Però di uccidere le persone Anziché Bello È bellissimo Bellissimo Ma perché non ho iniziato a giocare prima Sto gioco È il gioco della vita Mi dissocio Ha fatto un po' male Allora Poteva essere un bel altro Vero? Eh sì Mamma mia È crollato anche l'altro Dallo spavento Porca miseria Aspetta No, il bambino no Vero Un attimo Guarda che ti spezzi Oh Però è ancora in piedi Sì, è resistente lui Allora Abbiamo solo due spade Oltre che tu Eh purtroppo c'è questo grosso problema Vado? Sì Un attimo Tranquilla Il bambino l'hanno messo L'hanno ben protetto Cosa serve secondo te questo? Cosa? Dobbiamo riuscirci Ti spiego Ti spiego Allora Ok Ok È caduto Ho quasi preso la bambina Eh Ma ci siamo chiusi noi Ci siamo chiusi Perché a me non pensavo La fosse possibile No, infatti Non credo L'abbia Mai contemplato No, praticamente Secondo se chigliamo Quello dietro Fa partire i razzi Bravissima Ma c'è Immortale No Ecco Fai andare alla fine Eccitando brutalmente No, vinci Si vince così Non facendo le kill E basta Capito? Ma era kill people Eh, no, 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 no Era proprio così Car spike Ho paura No Non va avanti Non sapevo neanche Che esistesse una Ma l'hanno creata Sì, ma non va Non dove guidarla così No, no Però non ci interessa Perché lui Ma è della guina La dieci volta Troppo bravi Troppo bravi Vai Dai Sono pronto Ah È il momento Della giornata Della corsa No, queste no Queste no Beh, allora è finita Non mi sento infissa Devo riuscirci Cosa? Non mi corrompi i tasti C'è qualcosa che sto dimenticando È notato Devi riuscire a Sì Non so come si chiama Come tecnica Vedi, ho perso La mano Mi sono dimenticato Di qualche tasto Aspetta, eh Allora Con questo Fai così Con questo Fai così E con questo Perché non va dritta? È successo qualcosa È che tu non sei prima di tasto No, no È la bici il problema Te lo garantisco Vedi che Guarda No, abbiamo perso Ma sei matto No Capito? C'è tu per la corsa Sì Abbiamo vinto Come Come fai? No, lo so No, no, no C'è la troll flip Questo è il nostro livello È la troll flip Non lo so Ok Ok Perché è una troll Dove? Dove? Cioè oppure è perso? Non capisco la spiegazione Perché non capisco La lingua Purtroppo Però È stata Non ho capito Se hai perso o vinto È stata un esperimento Penso che abbiamo perso BMX mega epic No Staccati dal bambino Ok È bellissimo Ok Quella craniata Non mi aspettavo In un momento di silenzio Allora Quindi dobbiamo abbandonare il bambino Ciao bambino Ciao bambino Salire Così Facile Poi Te la gestisci E te la rigestisci Cosa che invece non mi aspettavo E poi te la devi rigestire Vabbè Non ci può fare uguale A saperlo Abbiamo perso l'elmetto Questo è stato bello Ok Perfetto È tristissimo È bellissimo Opla Opla Spacchi i vetri Vai ancora Quanto dura È bellissimo Voliamo Non si capisce che dobbiamo fare Perfetto È un po' difficile Interpretare la gara E capire cosa stai per fare Sì sì però Stiamo continuando Se siamo vivi funziona Esatto Suppongo che sia positivo Rettilinio Mi ha smontato Un orecchio Credo che loro Possano mettere Il coso della win moltiplicata Penso che qua Partiranno delle orecchie Riporecchie signori Ultimo livello di oggi Baby throw Per forza Ci dissociamo signori No Ok No Devi Non devi Andare tu Devi lanciare il bambino Allora Praticamente funziona così Tiri dritto E lanci il bimbo Ovviamente Ricordiamo tutti Che questo è un canale per famiglia Sì Noi non vogliamo Tirare i bambini In queste brutte cose E non è divertente Questo livello No non è divertente Non stiamo ridendo infatti Nessuno qua Si diverte Con queste cose Veramente brutte Vabbè però Allora Come Come cavolo fai Non lanciarlo Né troppo in basso Né troppo in alto Cioè Se aspetta troppo Si infilza lì Fai lanci troppo Vero Forse lo devi tirare prima Devi fare più No Una parabola in avanti Cos'era Cosa Stai cercando di fare Cioè Dici Così No Vedi Non è possibile Eh hai visto Forse è il contrario Così C'eri quasi E' questa la tecnica Per lanciare i bambini No Siamo emozionati Troppo in fretta Dai Stef Ce l'avevi fatta Perché così Siamo troppo lenti Capito E' quello il problema C'era Fere Questo è stato Il tentativo In cui siamo andati Più vicini So che non sembra Eccolo Signori Prima che qualcuno Ci arresti Ci fermiamo Speriamo che Vi sia piaciuto Sì Mi sono divertita E cosa abbiamo fatto Soltano come sempre Come altri video Scrivetevi al canale Campellina E ci vediamo Nel prossimo video Ciao ciao